Che cazzo dici Gabriella? Ma che cazzo dici? Confronto! Ma quale confronto? Quando andano avanti ci vogliono per 20 persone, ci vogliono 20 persone! Non c'è la possibilità di avere 20 persone! Non si fa! Non me ne frega un cazzo, si fa con 5! Perché se tu la vuoi fare una cosa, la fai! Ti svegli al mattino e la fai! Piuttosto bari, uccidi, massacri, ma la fai! Questa è una mia creatura e la devo fare, non me ne frega un cazzo! A costo di farla da sola! Allora, fai bene, ti prendi un regista, un aiuto regista, un forno, un aiuto fonico, un triaiutofonico, quattro operatori, così ti puoi...